Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del Tg6 in apertura alla cronaca giudiziaria con gli interrogatori di garanzia nell'ambito dell'inchiesta Earthquake che sono in corso di svolgimento al Tribunale di Pescara dove per noi in diretta c'è Francesca Romana-Testi a cui do il buongiorno. A te Francesca. Buongiorno Alfredo, noi siamo qui perché dalle 10.30 di questa mattina erano previsti gli interrogatori proprio per quella che è l'inchiesta sulla ricostruzione. Tutto nasce dalla denuncia di un imprenditore Umbro che è a giudicatario di tre appalti per un valore totale di 8 milioni di Euro si è visto richiedere dal direttore dei lavori una percentuale del 12%. Quello che poi è stato in qualche modo contestato a tutti gli indagati, ma a vario titolo, è l'associazione a delinquere, la corruzione, la concussione, la turbativa d'asta, il falso in atto pubblico e l'induzione in debita a dare o ad avere. Questa mattina sono sfilati davanti a noi alcuni degli imputati, altri invece erano soltanto gli avvocati. Molti di loro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Iniziamo con ordine. Angelo Melchiorre in questo caso particolare non ha risposto, quindi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha motivato questa scelta proprio dal fatto di non avere ancora ricevuto la copia degli atti, comunque in qualche modo garantendo il fatto che avrebbero chiesto più avanti dopo la lettura di poter parlare e dire quanto a propria conoscenza. La notizia è che proprio durante l'interrogatorio ha rassegnato le dimissioni dal responsabile dell'ufficio tecnico per non inquinare le prove, così chiedendo anche la revoca degli arresti domiciliari. Poi un altro degli indagati più importanti era l'ex colonnello dell'esercito, l'ottantenne Giampiero Piccotti di Gubbio. A lui è stato dato il ruolo più importante, quello della mente. Si è avvalso anche lui della facoltà di non rispondere, non è passato davanti alle telecamere giornaliste, ha scelto di passare da una porta secondaria. Ancora Emilio Di Carlo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee dicendo semplicemente non sono colpevole. E poi Marino Scancella, il suo ruolo, quello di architetto, lui invece ha scelto di parlare, ha parlato di quelli che erano stati i suoi incarichi, quindi anche lui ha reso testimonianza. E poi Angelo Riccardini di Gubbio, tecnico e gubbino, ex consigliere comunale, faceva parte delle intercettazioni nel quale si parlava proprio di quella che era la difficoltà in Abruzzo perché gli appalti in qualche modo erano controllati. Durante la mattinata siamo riusciti a ottenere le dichiarazioni proprio dell'Avvocato di Angelo Melchiorri, Lino Sciambia, che ha parlato di quella che era la situazione, soprattutto perché Melchiorri durante le sue dichiarazioni ha avuto dei momenti in cui ha proprio appianto davanti al GPIPM e noi abbiamo chiesto un po' quella che era la situazione e quella che era la posizione del suo cliente. L'ascoltiamo. Melchiorri si è al verso della facoltà di non rispondere, ma perché non ancora abbiamo avuto a disposizione le copie degli atti del procedimento penale. Non appena queste copie saranno disponibili, con tutta probabilità saremo noi a chiedere un interrogatorio al PM per chiarire la posizione. Il Melchiorri ha comunque ritenuto di rassegnare le sue dimissioni dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Bussi e dal responsabile dell'utile numero 5, quantomeno perché nella sua attuale posizione la permanenza in quell'incarico impedirebbe agli uffici di continuare ad avere il loro regolare funzionamento. Noi difensori abbiamo richiesto la revoca della misura cautelare, ritenendo sulla base della semplice analisi dei capi di imputazione, ritenendole non sussistenti perché comunque sono riferite a fatti del 2011, del 2012 e del 2013, fatti che si sono verificati tre anni or sono e per i quali la misura cautelare è stata richiesta e applicata oggi. In ogni caso la presentazione delle dimissioni fa venire meno comunque l'esigenza e non so perché i reati contestati sono tali in funzione del fatto che il Melchiorri comunque rivestiva le cariche di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Bussi e di responsabile dell'UTL. Ha pianto Melchiorri mentre si trovava in aula? Melchiorri non gode di condizioni di salute ottimali, ha avuto un attimo di scoramento, quindi è del tutto comprensibile. Queste le dichiarazioni dell'Avvocato Lino Sciambra. In questo momento sta concludendo le dichiarazioni Angelo Riccardini, poi sarà prevista probabilmente una piccola pausa per il GIP. Gianluca Sarandreale, PM Anna Rita Mantini e Mirvana di serio. Dopodiché sarà un momento molto atteso, è quello proprio dell'imprenditore o gubbino Stefano Roscini. In qualche modo quello che è stato ricostruito nel quadro è stato che un consorzio di imprenditori si metteva insieme per ottenere degli appalti. Una volta ottenuti gli appalti una percentuale veniva data a chi controllava questa macchina per poter a loro volta pagare delle tangenti a quelli che erano amministratori oppure tecnici. Questo era il modus operandi che in qualche modo è stato contestato, perciò la grande attesa è proprio quella per l'imprenditore di Gubbio. L'interrogatorio probabilmente sarà fra meno di un'ora, quindi l'attesa è per le dichiarazioni. Che renderà? Se le renderà perché in qualche modo si parla di dichiarazioni che verranno rese. E sì Francesca, è proprio così. Roscini ha annunciato di voler parlare, di voler spiegare anche quel pizzino, quel pezzo di carta che è incluso nella ordinanza del GIP e che secondo gli investigatori sarebbe un po' il punto cardine di tutta la macchina messa in piedi per gestire la ricostruzione post terremoto nei comuni di Bussi sul Tirino e di Bugnara, rispettivamente in provincia di Pescara e in provincia dell'Aquila. Grazie allora Francesca per essere stata con noi e averci raccontato questi interrogatori che continuerà a seguire assieme alla collaborazione tecnica di Roberto Pulimanti. Grazie ancora Francesca, andiamo avanti con il telegiornale e parliamo sempre di ricostruzione di terremoto perché c'è un'altra notizia e un'altra indagine dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila che hanno eseguito questa mattina un sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti su beni finanziari, mobili e immobili oltre a quote societarie per un valore superiore agli 800 mila euro nei confronti di tre persone di una società operante nel settore della tecnologia informatica beneficiaria di contributi comunitari e nazionali erogati dai comuni di L'Aquila e Fossa a titolo di indennizzo per danni subiti a seguito del terremoto Questa è l'indagine che ha portato al sequestro di questa mattina secondo i finanzieri ci sarebbe un danno erariale patito dalle pubbliche finanze a causa dei contributi illecitamente percepiti per un importo complessivo di 700 mila euro e quindi è stato ipotizzato anche il reato di truffa ai danni dello Stato Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo di immigrazione perché su questo tema stamattina è intervenuta Forza Italia in particolare sull'arrivo annunciato di profughi nella provincia di Pescara Allora andiamo ad ascoltare quanto richiesto da Lorenzo Sospiri consigliere regionale alla regione Abruzzo nel servizio di Polo Renzetti Consigliere Sospiri oggi avete presentato delle proposte per quanto riguarda la presenza di immigrati in Abruzzo tra l'altro avete anche parlato della presenza di queste persone nei piccoli centri della provincia di Pescara e non solo con gli amministratori che vengono informati praticamente al momento di tutto questo Allora se sono immigrati, intanto sono immigrati clandestini e si devono tornare a casa loro se sono presunti profughi allora parliamo di quello che sta avvenendo Noi abbiamo presentato quattro proposte di legge che hanno questo obiettivo, sono molto sintetico e schietto interrompere il business che fanno i privati sul fenomeno immigrazione richiamare la regione Abruzzo al mantenimento dei suoi compiti istituzionali che vuol dire coordinare e rendere trasparente il fenomeno e non farlo scaricare sulla responsabilità di sindaci di medie, piccole, piccolissime città e paesi della nostra provincia, ma della nostra regione che quali mezzi dovrebbero avere per contenere questo fenomeno la regione Abruzzo fa finta di niente se ne frega, non so perché perché poi chi partecipa a questi bandi sono cooperative da un colore molto chiaro molto chiaro, ovvero rosse o sono le stesse istituzioni regionali benefiche come l'IPAB a cui la regione non trasferisce soldi e quindi fanno quadrare il bilancio sui presunti profughi ma questo è un fenomeno che non si legge più non si legge più per la situazione di Monte Silvano dell'Eccelsior dove ce ne sono troppi in un albergo che non è in grado di ospitarli e che non li dovrebbe ospitare perché non è nelle condizioni di ospitare in un quartiere preferenziale, residenziale ma non si legge nei paesi della provincia di Pescara dove magari arrivano 25 presunti profughi a Vestea o a Pianella o a Moscufo o a Turri Varignani dal giorno e dalla notte perché c'è un imprenditore non so neanche se definirlo così molto cinico che fa affari su stipare più gente possibile Ora cambiamo argomento e torniamo alla morte del presidente della Camera di Commercio di Teramo Gian Domenico Di Sante la famiglia ha deciso di allestire la Camera Ardente nell'abitazione di famiglia a San Nicolò incessante il viavai di persone che hanno deciso di dare l'ultimo saluto al Cavaliere i funerali si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli sempre a San Nicolò il servizio di Tania Bonnici Castelli Tanta, tantissima gente sfila in silenzio davanti al ferretro di Gian Domenico Di Sante per un ultimo saluto per tutti era il presidente un uomo buono di altri tempi che ha saputo costruire dal nulla e da solo una fortuna economica nel campo della vendita e produzione dei mobili mio padre era un umile artigiano gli piaceva ripetere e io non lo dimentico se ne va a 80 anni a causa di una brutta malattia che non gli aveva però impedito di lavorare fino alla fine nella sua casa di San Nicolò a Tordino alle porte di Teramo la famiglia ha voluto allestire la Camera Ardente per permettere alla sua gente persone umili come piacevano a lui amici, politici e dipendenti di andarlo a trovare ancora una volta nel corso della sua vita ha ricoperto un'infinità di incarichi come politico nelle fila della democrazia cristiana per 30 anni presidente della Banca Popolare che ha traghettato nel gruppo intesa San Paolo presidente della Confcommercio e fino ad oggi della Camera di Commercio di Teramo Confcommercio devo dire è stato un autorevole riferimento un faro soprattutto che ha cercato di conferire in alcuni anni e soprattutto in questi ultimi che ci stanno avvicinando a dei processi anche di fusione di integrazioni per noi è stato un valore aggiunto profondo il cordoglio espresso a nome della sua banca intesa San Paolo dal direttore regionale Luca Severini che ricorda il presidente di Sante come protagonista dello sviluppo del territorio come lo ricorda il cavaliere di Sante? lo ricordo innanzitutto con grande affetto come una persona sempre presente una persona generosa di grande generosità una persona poliedrica che ha fatto tanto per questo territorio ha fatto tanto per questa città e non solo per questa città Gian Domenico di Sante se ne va da questa vita umilmente come ha sempre vissuto lascia la moglie Margherita i figli Attilio Tiziana Marcello e gli amati nipoti sono loro la mia vera ricchezza diceva tutti il resto non conta e gli occhi gli brillavano e adesso cambiamo argomento andiamo all'Aquila dove iniziano a scaldarsi i motori in vista della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative nel 2017 Fabrizio Di Stefano chiede unità di intenti al suo partito Forza Italia e agli alleati della coalizione Giorgio Alessandri Sintesi tra le varie anime della coalizione ma anche degli stessi partiti è questa tanto nel centro-destra quanto nel centro-sinistra la parola chiave che viene ripetuta dai diversi esponenti interpellati sulle amministrative per il Comune dell'Aquila del 2017 nel centro-sinistra la situazione è ancora tutta in fieri nel centro-destra invece c'è già un candidato Luigi Deramo con noi con Salvini e un altro che potrebbe a breve annunciare la sua discesa in campo l'ex sindaco di Villa Sant'Angelo per Luigi Biondi che verrebbe appoggiato da una serie di liste civiche oltre che molto probabilmente anche da Fratelli d'Italia e Casa Pound e Forza Italia difficile che rimanga a guardare nei giorni scorsi è stato ufficializzato il Comitato Comunale ed è iniziato un percorso che porterà alla primavera del prossimo anno se con un candidato proprio o di coalizione lo abbiamo chiesto all'onorevole Fabrizio Di Stefano uno dei leader del Partito Azzurro in Abruzzo Io guardo ovviamente con estrema positività questa vivacità finalmente vivacità del nostro ambiente qui sull'Aquila lo abbiamo sollecitato lo abbiamo sperato e finalmente c'è qualcosa che si muove la candidatura finale sarà un qualcosa che verrà accaduta oggi l'importante è creare un progetto politico condiviso da parte di tutte le anime del centro-destra e non solo il centro-destra di collocare con quei grandi stati di popolazione che magari non sono inquadabili nei partiti politici ma che seguono con attenzione le dinamiche specie amministrative della città per offrire un'alternativa all'Aquila per un'alternativa necessaria visto che a mio avviso questa amministrazione lo dimostra la quotidianità non ha dato le risposte che invece i cittadini si aspettavano e che il territorio e la città meritavano per quanto riguarda la candidatura io mi sono sempre speso perché anche il centro-destra ricorresse quando qualora non dovesse trovare condivisione su un'unifica candidatura allo strumento delle primarie ma prima ancora di arrivare a questo io credo che vada la pena di scandagliare il più possibile il tessuto sociale Aquilano per verificare se al di là di chi ormai è perfettamente inserito nel discorso politico cittadino se ci sono anche altre figure professionali di qualità di competenza che vogliano provare a dare il proprio apporto per il rilancio della città torniamo a Teramo quattro giorni di confronto serrato sul futuro culturale di Teramo sono gli stati generali della cultura una iniziativa che durerà fino al 22 di ottobre occasione questa mattina anche per inaugurare l'ipogeo vediamo l'ipogeo la navetta spaziale atterrata un giorno di tre anni fa a Teramo in piazza Garibaldi si rivela finalmente ai cittadini per ospitare gli stati generali della cultura un'iniziativa mega galattica indetta dall'amministrazione comunale che per quattro giorni ha invitato associazioni artisti operatori ed intellettuali a condividere idee e progetti culturali per la propria città la prima giornata è dedicata al disegno con il coinvolgimento degli architetti che avranno modo di ripensare appunto la spazialità del capoluogo Teramano è soddisfatto di questa partecipazione lei che cosa si aspetta realmente io sono soddisfattissimo che gli attori culturali la vita vera culturale l'energia che viene proprio dall'associazionismo dal territorio è presente a Teramo non è stata massacrata c'è molta creatività voglia di di mettersi in gioco e voglia di di collaborare con il territorio come farà poi a raccordare tutte queste idee beh c'è un c'è un metodo scientifico predisposto che normalmente si usa nelle comunità scientifiche nei consessi in cui bisogna sintetizzare idee e concetti complessi poi questo materiale è la base su cui lavorare successivamente venerdì presentarlo sabato alle istituzioni per rendere conto di quello che è successo a Teramo 4 giorni per riprogettare la cultura del futuro a Teramo una città che sembra aver perso la propria identità culturale e che ha bisogno di ritrovarla al più presto un ruolo importante in questa rinascita lo ha svolto e lo svolge la fondazione Tercas che ha sostenuto economicamente l'evento se la fondazione ha come compito quello di valorizzare la cultura e quindi di destinare delle risorse finanziarie al settore culturale è anche importante però che si pongano davanti una serie di opzioni di idee nuove di modelli che possono essere poi sviluppati il centrodestra pescarese lancia l'allarme asili nido vediamo il perché 110 bambini sono fuori dagli asili nido comunali questa la denuncia che avete lanciato questa mattina in conferenza stampa un problema che nasce da lontano sì purtroppo sì un problema che nasce da lontano che si è verificato si è realizzato concretamente dal primo settembre quando i sette asili nido comunali hanno riaperto i battenti e soltanto 160 bambini hanno potuto accedere è chiaro questi 110 bambini si trovano oggi in difficoltà con le loro famiglie perché debbono rimanere a casa se sono fortunati con un nonno con un nonno oppure debbono ricorrere alle spese di una babysitter quindi noi oggi abbiamo di nuovo riproposto quello che fu il nostro cavolo di battaglia allora nel 2009 negli anni successivi quello del progetto nido per tutti l'invito che facciamo raggiunta Alessandrini è quello di comprendere l'importanza della valenza sociale di poter far accedere tutti i bambini di Pescara in questa fascia di età da 0 a 3 anni all'interno dei nidi comunali e privati e quindi riaprire adesso che stanno in fase di edizione del bilancio di previsione un capitolo di bilancio apposito a favore di questa problematica questa è la nostra speranza e l'invito che facciamo sia al sindaco Alessandrini ma anche all'attuale assessore al bilancio gli studenti della facoltà di architettura dell'università di Camerino stanno esponendo i loro progetti per il futuro urbanistico della città di Teramo nel capoluogo a Prutino vediamo qual è la destinazione urbanistica di Teramo a questa domanda cerca di dare una risposta alla mostra progetti per Teramo 12 tavole con altrettanti lavori su aree strategiche della città curati dagli studenti e dai laureandi della facoltà di architettura dell'università di Camerino che così si aprono al giudizio della cittadinanza e quindi abbiamo individuato tre aree che si trovano sul fronte sud del centro storico di Teramo cioè un'area a porta romana l'area dell'ex stadio e l'edificio del mercato coperto attualmente sotto utilizzato perché abbiamo fatto questo? che abbiamo pensato che queste tre aree per la loro prossimità al fiume Tordino potessero costituire delle nuove piccole centralità in grado di ritornare su un tema tradizionale del filiere corte del Cibo La mostra organizzata dall'ordine degli architetti di Teramo ed allestita nei locali dell'Arca è frutto di un rapporto di collaborazione tra l'università di Camerino e il comune di Teramo che hanno sottoscritto un apposito protocollo d'intesa garantendo alla città a costo zero un'attività di ricerca urbanistica importante per lo sviluppo futuro Quindi l'obiettivo è quello di tirar fuori ipotesi anche molto differenti sui medesimi contesti questo credo possa essere un arricchimento per una riflessione che spero porteremo avanti con questa tavola rotonda di venerdì prossimo che possa essere anche di stimolo di aiuto non solo per l'amministrazione per le scelte future ma anche per la stessa comunità teramana Stagione positiva per le grotte del Cavallone come ha spiegato il sindaco di Taranta Peligna Di Martino Con il sindaco di Taranta Peligna parliamo delle grotte del Cavallone questo gioiello naturalistico d'Abruzzo presenze in aumento tante iniziative anche per le prossime settimane esatto noi abbiamo confermato nonostante abbiamo avuto problemi iniziali per difficoltà gestionali dell'impianto funiviario ma siamo riusciti ugualmente a superare le 10.000 presenze che era l'obiettivo massimo a cui avremmo voluto pervenire anche per quest'anno a fine mese in occasione di Abruzzo Pendeci sarà un'apertura straordinaria non solo della grotta del Cavallone ma anche di tutte le emergenze carsiche presenti sul territorio regionale abbiamo istituito una sorta di iniziativa che si chiama grotte dei appunto in quei giorni saranno facilitati gli accessi con tariffe veramente molto vantaggiose noi abbiamo diciamo così come emergenze naturalistiche sicuramente quella più importante in termini di indotto e in termini di ricavi relativi proprio alle grotte stesse noi abbiamo 260.000 euro di entrate per funivie e grotte oltre 100.000 euro diciamo così sono stati spesi sul territorio in termini di ricezione turistica di ristorazione e di artigianato locale ora lo sport calcio di Serie A Pescara in primo piano doppia seduta di allenamento oggi per i biancazzurri procede bene il recupero dell'attaccante Manai che però non sarà a disposizione per la partita di domenica ad Udine è difficile anche la presenza di Crescenzi e Vitturini mentre saranno a disposizione Verra e Zampano Coda invece è squalificato intanto il presidente Sebastiani soddisfatto del rendimento della squadra annuncia se dovesse servire a gennaio ci faremo trovare pronti sul mercato sentiamo Udinese e Atalanta nel giro di quattro giorni potrebbero essere le gare per cercare oltre che di conquistare la prima vittoria di avvicinare posizioni di classifica ancora migliori sì sì sono due partite importanti sia per noi che per loro perché non è che stiamo parlando di squadre che sono così lontane da noi anzi Udinese ha i nostri stessi punti quindi sono partite importanti perché entrambe le squadre si giocheranno quello che dicevi tu cercare di trovare una posizione più consona in questo campionato però noi penso che abbiamo dimostrato fino a oggi di potercela giocare contro tutti non abbiamo mai dato l'impressione di essere una squadra materasso come purtroppo successe nell'altra esperienza della Serie A questa è una squadra che entra in campo se la gioca fino alla fine io devo dire che ho la stessa sensazione che avevo l'anno passato anche quando andiamo sotto di un gol hai sempre la consapevolezza che prima o poi il gol lo puoi rifare perché è una squadra che gioca è una squadra che ha tutte le caratteristiche per poter fare bene per poter arrivare alla salvezza anche magari all'ultima giornata noi saremmo felicissimi noi comunque siamo sempre attenti e al lavoro è chiaro che da qui a gennaio succederanno tante di quelle cose che noi non possiamo nemmeno immaginarle poi a gennaio ci faremo trovare pronti se ci sarà necessità di fare un difensore di fare un attaccante qualsiasi pedina ci servirà per rinforzare questo organico che secondo me è già di primo ordine per questo campionato lo faremo ma senza stravolgere senza soprattutto portare i giocatori inutili perché sono convinto che noi in tutti i ruoli abbiamo una bella scelta e quindi non dobbiamo sminuire il valore dei giocatori che stanno facendo fin qui molto bene l'Udine è un solo successo nel lontanissimo 1942 bisognerà cercare di cambiare la storia durante la guerra adesso la guerra è finita speriamo di di riportare un risultato positivo da Udine che non sarebbe assolutamente male perché l'Udinese è una gran bella squadra e penso che abbia anche lei incontrato finora delle partite delle squadre importanti e di riuscire a fare quei punti come noi che abbiamo anche noi ma c'era un trolley personalizzato il presidente l'azienda Cocco assolutamente sì non c'era il presidente non c'era nessuno ma con una scritta non c'era come diceva qualcuna volta o a tutti o a nessuno e restiamo sempre alla serie A perché sono state rese note le motivazioni per le quali la corte sportiva d'appello ha rigettato il ricorso del Sassuolo per la gara con il Pescara ha confermato lo 0 a 3 a tavolino per il Biancazzurri inflitto dal giudice sportivo il ricorso è stato giudicato infondato per due dei tre punti sul quale era strutturato circa il terzo aspetto secondo il quale Sassuolo aveva effettuato la comunicazione del tesseramento del calcettore Ragusa attraverso il sistema Extranet la corte ha precisato che questa modalità non è affatto sostitutiva della PEC che è l'unico modo previsto dal regolamento per effettuare comunicazioni circa la cosiddetta lista dei 25 elegibili per le partite di campionato in questo punto peraltro la società Sassuolo ammette di non aver trasmesso a mezzo PEC la comunicazione della modifica della lista dei 25 ora che sono state rese note le motivazioni il Sassuolo a tempo fino al prossimo 6 novembre per presentare ulteriore ricorso al collegio di garanzia del CONI per il terzo grado ma la decisione sembra nel caso difficilmente ribaltabile scendiamo in Lega Pro adesso per parlare del Teramo Federico Carraro sarà fuori anche nel match di sabato prossimo contro l'Albino Leffe si protrae l'assenza del trequartista del Teramo in panchina nelle ultime gare solo per onor di firma lo staff tecnico e medico farà il possibile per recuperarlo per recuperare scusate quanto meno l'attaccante Jefferson la cui assenza si è sentita nelle ultime due gare il difensore Dorazio punta l'indice sulla fragilità della squadra in fase difensiva sentiamo da oggi nessuna squadra ci ha messo sotto a livello di gioco ecco abbiamo comunque avuto sempre qualche molte occasioni per creare un gol per creare gol però è pure vero che da difensore parlo non si può prendere sempre gol ogni partita sicuramente c'è da lavorare molto in questo da lavorare molto su questo aspetto perché appunto non possiamo prendere amico siamo passati in vantaggio a Venezia potiamo raddoppiare subito magari sarebbe stata un'altra partita però posso dire questo poi ecco è stata la disattenzione da parte nostra sul gol e sugli altri gol dobbiamo migliorare questo perché se no andando avanti così non è possibile che ogni partita così subisca così facilmente il gol dobbiamo pensare subito a sabato e a dare subito una scossa e a smuovere la nostra posizione di classifica che a mio avviso non meritiamo assolutamente di stare in quella posizione ecco come detto tu già da sabato deve esserci questa scossa perché per dare una svolta subito al nostro campionato io l'Albinolef conosco il mister Alvini che mi ha allenato a Pistoia ecco una buona squadra come tutte le altre sicuramente sulla carta potrebbe essere molto abbordabile cioè potremmo giocare molto come ogni partita che noi scendiamo in campo per giocarci per loro per andare a vincere qualsiasi squadra gioca per vincere lasciamo il calcio per occuparci di golf si è chiuso l'evento internazionale Alps Tour a Miglianico con la vittoria del giovane reatino Stefano Pitoni non particolarmente fortunata la performance del professionista abruzzese del Miglianico Golf Club Luca D'Andrea Matteo che parla così della quattro giorni di competizione Polo Sinibaldi Luca D'Andrea Matteo il taglio l'ha passato l'ha passato è già è stato superato uno scoglio poi com'è andata? Poteva andare sicuramente meglio ieri ho perso qualche colpo di troppo sono stato un pochino sfortunato sotto il punto di vista fisico perché non sono stato bene proprio fisicamente il tempo è stato duro comunque una settimana di stress e sveglia prestissimo per quattro giorni sempre verso le 5 e mezza 6 partivamo con la pioggia usciva il sole terzo giorno purtroppo ho avuto la febbre nel finale proprio ho un po' ceduto e purtroppo io sbaglio ancora molto cioè la differenza per ora tra me e quelli che stanno su su è che io perdo molti colpi perché di Berdy ne faccio abbastanza sono soddisfatto solo che perdo troppi boghi perdo colpi che potrei tranquillamente non perdere e sbagliare di meno però un passo avanti rispetto ad esempio alla stagione passata quindi Andrea Matteo che ci sta provando con tutte le sue forze ed è difficilissimo fare il golfista professionista sì sì è difficilissimo anche perché ti senti ti senti abbastanza da solo a scalare una montagna senza nessun appoggio da destra da sinistra è difficile comunque il golfista fa questo quando parte va in giro si trova da solo quando si gioca in campo sei da solo questo è lo scoglio più grande da superare comunque è tutto per questa prima edizione del TG6 i prossimi appuntamenti sono alle 19 e alle 23 tra poco Meteo 6 grazie per averci seguito buona giornata grazie per aver guardato